Con l'abolizione del tacito rinnovo RCA non ci sono più grandi passaggi da seguire per non rinnovare l'assicurazione auto sotto la stessa compagnia, alla scadenza annuale. Ma come disdire l'assicurazione auto prima della scadenza? Come cambiare compagnia assicurativa? Oggi, grazie al decreto sviluppo bisentrato in vigore nel gennaio 2013, non serve inviare alcun modulo per la disdetta dell'assicurazione auto. In più, l'attestato di rischio, ormai elettronico, è acquisibile dall'assicuratore accedendo alla banca dati dell'Ivas, dal 2015. Sempre che la vecchia compagnia, che comunque ne ha l'obbligo, lo renda disponibile, questa operazione deve avvenire almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto. Questo è ciò che succede quando l'assicurazione auto sta per scadere e voi volete cambiare compagnia. Ma è possibile chiudere il contratto prima della scadenza naturale di 12 mesi, solo per scelta personale? Sì, ma in questo caso dovete conoscere i casi particolari. Chiudere RC Auto prima della scadenza Come anticipato, potete chiudere il contratto RC Auto prima della scadenza naturale di 12 mesi anche per scelta personale, ma per farlo gratis dovrà verificarsi almeno una di queste condizioni, vendita dell'autorottamazione furto o incendio di cesso dell'intestatario. Con richiesta di chiusura presentata allegando specifici documenti, in tutti gli altri casi, il recesso anticipato potrebbe avere un costo, anche non lieve, fino all'ammontare del restante premio, come sempre, dipende dalle clausole nel contratto. Quando sussistono le condizioni elencate qui sopra, il recesso anticipato, motivato, gode del rimborso dell'intero importo del premio. Non goduto, meno le tasse e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale Disdire assicurazione auto, come farlo prima della scadenza Sulla base delle possibilità elencate qui sopra, se avete sottoscritto una polizza RC Auto e siete tentati di cambiare compagnia con L'unico obiettivo di poter risparmiare sul premio, vi conviene aspettare la naturale scadenza del contratto. Nel caso in cui vogliate comunque annullare anticipatamente il contratto, dovete procedere alla disdetta assicurazione auto. Ci sono due modi per farlo, inviate una raccomandata con ricevuta di ritorno Comunicate la vostra decisione usando l'apposito modulo presente nei siti web delle varie compagnie Se sceglierete la lettera, non dovrete rispettare particolari formalità, ma nel testo dovrete indicare i vostri dati I dati della vettura e della polizza di assicurazione La vostra firma a questo punto non vi resta che attendere la prova di ricezione della disdetta assicurazione auto, cioè la ricevuta di ritorno. Grazie Grazie Grazie